musica 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 ah scusa ah 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 fareb una sopravivienza tra i testi ragazzuoli che c'è uno in meno eh raga eh fa bolla organizziamoci con il eh cosa l'ha fatto l'interdito eh l'interdito no no sto vedendo i gol di cadere a prova commentati da zappa che mi fa morire ah ah intensità di bisogna approfittare di far subito fuori quei due che non sono neanche primo prestigio subito un non l all'attene, minaccio tutti 3 allattati attenzione, sei in minoranza, 4 a 1 danni critichi, cercare riparo occhio è uno che sta seguendo a me raga evitatemi qua a destra facciamo uno da ice si si arrivo arrivo merda giro, giro, giro allarme, subiti danni esistivi no guarda il bastardo, parlando di bastardo allora fagli il giro da dietro questo poi intanto ha ammazzato e lo darò avanti questo no 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 dai no no dai come si distrutte no no, non potò il minicchio è un po' male La nostra ultima speranza, concentrati Poi fai il tancio, ragazzi 3 contro 1 Allarme, subiti danni gravi Attenzione, telefonate, attenzione Mamma mia, questa ce l'ha fatto Dove può stare avanti? Vabbè, adesso ci... C'è il venuto di Marsella E che ci hanno circondato comunque Sono venuti in tre parti diverse Questa è una missione Titan Io direi due a destra, due a sinistra Poi si, verrà A tutti di qua Che figlia A tutti di qua, appassionatemente A testire orcia E facciamo il giro Abbiamo avanzato Sì, non c'è problema, non c'è problema, non c'è problema. Non c'è problema, non c'è problema. Non c'è problema, non c'è problema, non c'è problema. 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 Non c'è problema, non c'è problema, non c'è problema. 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 l'energia andata non può essere restati che trovo spero ok 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 ho visto ho assoluto andare in conflitto vai davis ce l'hai dietro ce l'hai dietro mamma mia bravi ragazzi ciao francea siamo posizione sei arrivato tardi ho già iniziato a registrare grazie facciamo sempre a destra siamo al contrario vai giù a destra giù a destra giù a destra è per lì eh oh allarme allarme attenzione sei in ignoranza 3 a 1 è fuori allarme subiti danni eccessivi 5 a 1 2 2 2 2 2 3 2 Ah. DOOитай cherche tuorbei, tu no, ripeto! È scato lungo, Titan. Anche tu non puoi contare su nessun altro. Vこi, parco... D. Dove è? B- Dove è... Vieni via te. мен si è un altro Titan distrutto, racca. D. Madonna che partitozza. Hannoiani che lo dissetto con la carabina! C***a hanno fatto con la carabina porca troia? hai sbagliato, l'avevo sparato col cannone Archer no, con Radius abbiamo schiacciato, non con la questa qua è il fratello di Highlander temporeggiate, temporeggiate sempre occhio perché secondo me ci fanno un giro diverso sono tutti dentro sono tutti dentro e lasciateli dentro, voi venite qua arrivano dall'altro lato io mi arrivano dall'altro lato c'è una camera di merda che cazzo ahi è il mato a toccato ma è il mato a toccato ma è il mato a toccato oh la cazzo Poi c'è un Titan, non c'è un'altra volta Cazzo Ci hanno fregato stavolta 3-2, dai dai, ce ne possiamo ancora fare Questa è una battaglia di sopravvivezza, Titan Non andate a sinistra Non potrei chiederne altro Già, temporaggiare e aspettarli E aspettare che ci sia una via di fuga Altrimenti qua ci hanno chiuso tutti lì Qualcuna a destra con me non c'è Guarda questo dov'è Venga qualcuno a destra con me, sono da solo eh Sta arrivando eh, gli ho già fatto qualche colpo Vai, vai, vai Allarme, un altro Titan si sta attaccando Sono due da dietro comunque Allarme Allarme Titan si si hanno attacco Vai, uno l'hanno attacco E' impressionante Io sono morto Abbiamoci tre Io sono morto Abbiamoci tre Allarme Allarme Inattacco e arrabbattato Nooo Nooo Allarme 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 Allarme